Sfida nelle zone calde della promozione A, il Campomorone è chiamato a vincere in casa contro l'Azio, che lo segue a solo un punto di distanza. Nuovo test di maturità per i bianco-blu dopo aver parzialmente sbagliato quello di due settimane fa con l'Arenzano, finita in pareggio. Partita soporifera fino alla mezz'ora, finché non si riprende in intensità. Azione sulla fascia di Curabba, che si insuina in area e tenta il tiro sul primo palo. Palla di poco fuori, ma almeno le due squadre sembrano essere uscite dal torpore. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, la palla sfila dal mucchio in aria e arriva Galluccio, che prova il tiro da fuori. Pallone a campanile, che però rientra pericolosamente e impegna Moraglio in angolo. Si fa sentire anche l'Alasio in questa prima frazione, schema da calcio d'angolo che sfrutta il sinistro di Ottonello, che tira di poco fuori. Ottima conclusione, il numero 8. Poca emozione nei primi 45 minuti, vediamo se i secondi riscatteranno il match. Inizio subito forte il secondo tempo, al quinto minuto l'arbitro prima concede il vantaggio e poi fischia questo fallo in aria. Vediamo nel replay la scelta dell'arbitro Fichera. Dal dischetto si presenta Salas per la trasformazione, destro preciso a incrociare che trafigge Moraglio, 1-0, partita che finalmente si sblocca. Animi che si scaldano dopo la marcatura, al sessantesimo viene espulso Piazza, Gianmonito, Alassio in 10. Bellissima azione in velocità dell'Alasio, palla alta per Autieri che riesce a coordinarsi a incrociare il tiro e puntare il palo più lontano, grande risposta di Canciani che salva i suoi. Gol non fatto, gol subito. Con tutta la squadra in avanti i gialloneri subiscono in contropiede. Corabba in avanti si smarca prima dai difensori e poi rilascia il suo tiro potente su cui Moraglio non può nulla. Il numero 10 mette l'ipoteca sui tre punti. Campomorone che affonda il colpo nel finale e vuole essere sicura della vittoria. Corabba vuole la doppietta e puntualmente arriva. Biancoblu di nuovo in avanti in contropiede. E con la difesa mal schierata per il bomber, Corabba è facile superare di nuovo Moraglio con un tiro di potenza. Finisce sul 3-0 il match. Finisce 3-0 al campo di Begato 9. Campomorone che vince sulla diretta dell'inseguitrice e che ora potrà puntare in alto. Finisce 3-0 al campo di Begato 9.